Dopo la torre di diamante mi sono trovato a girare di nuovo intorno al castello e ho trovato un'altra torre gigante Questa volta di arcobaleno Ma è comparsa da sola anche perché guarda è anche vicino a quella di diamante Esatto e secondo me questa qui vale la pena di essere esplorata Di essere fatta E beh secondo me quei blocchi là sono importanti, mi sembrano dei mattoni però penso che possano essere di valore Se la scorsa volta erano diamanti questa volta potrebbero essere ancora qualcosa di più importante Cioè pensa se tutte quante sono pietre preziose Eh potrebbe, potrebbe Tu sbrighiamoci E tra l'altro ci potrebbero anche fare comodo altri armi Io potrebbero fare il piccone Sì bravo Avete tutti da mangiare per volare fino a sopra la torre? Sì Certamente Perfetto Allora rifocillatevi al 3 Partiamo in volo Via Oddio Che è successo? Ma è finito sul fiore strano Mi sono preso un infarto perché pensavo di andare a finire giù nel vuoto Mi sono visto tutto vibrare Non lo toccate, non lo toccate Lasciatevi stare Ho paura Basta Sono terribili perché ti impicciano No, no, anche se lo tocchi funziona Vola, vola, no, no Vola Possiamo andarcene da qui per favore Andiamo sulla torre che è meglio Mi sembra più sicuro Decisamente più sicuro Che stare lì in giro a farsi teletrasportare da quei maledetti fiori Oh Oh Eccomi Io ci sono Stefano c'è? Avevi ragione sono mattoni Sono mattoni Io avevo beccato il fiore Aspettatemi raga Però potrebbero anche essere preziosi lo stesso Sicuramente sono belli Quindi possiamo rubarli per sistemare il castello Anche perché ci sono delle cose che dobbiamo costruire Secondo me non abbiamo neanche tanto tempo Ah Stefano tu non sai una cosa Ma una cosa bellissima Che è successo? Ti ricordi l'uovo del drago che io avevo preso E avevamo Sì ma lo ricordo Poi non mi ha aggiornato su nulla Si è schiuso Io l'ho schiuso No, davvero E adesso lui mi riconosce come la sua mamma Ma non me l'hai fatto vedere Eh a tal proposito Lion abbiamo un problema Perché quello se ne sta andando in giro Nel castello Vabbè è libero di esplorare Se esce è un guaio No, no lui se la cava Ma non si esce Se cresce è un guaio nel castello Effettivamente potrebbe sfondare il tetto Vabbè Per il momento non me ne frega niente Perché il mio drago può fare quello che vuole E il mio mi riconosce come sua mamma E quindi va bene così Allora Rientriamo dentro e diamo un'occhiata Anche qui L'altare Sembra esserci di nuovo l'altare C'è da un altro A mano vuota Non mi ci fa interagire Non me lo fa aprire Questo l'altare dobbiamo capire È lo stesso comunque Sì è lo stesso Ah un'altra cosa che mi stavo dimenticando Che sicuramente vi fa piacere sapere Tu Mario mi avevi detto la volta scorsa Che questo libro qua è fatto di carne umana Di pelle umana Esatto sì è rilegato Sembra che tu ci abbia ragione E aprendolo Ti ritrovi in una specie di schermata Dove dentro c'è un'unica icona Che è un letto E dice sogni Se lo apri quindi tu praticamente Ti stai invitando a dormire Noi non abbiamo ancora dormito Non mi piace mai avere ragione in questi casi però Però io voglio vedere che cosa succede quando dormiamo Quindi sei davvero intenzionato a dormire con quel libro Sì 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 Secondo me va fatto Dobbiamo vedere che cosa succede Poi c'è un'altra cosa che non sapete La scorsa volta abbiamo obbedito al drago un'altra volta Il quale ci ha dato un potere Che io ho già condiviso con voi Dovrete avere anche voi Questo qui Bravo non usarlo È pericolosissimo Sono molto forte No assolutamente Quanto è forte Abbastanza forte Te lo faccio provare sulla tua pelle se vuoi No 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 Mi fido sulla parola Ma per capire Vieni guarda eh Vedi Oh no 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 Spegnetemi Ma è fantastico È piuttosto forte Aspetta che ti spengo Vieni vieni Ecco Grazie Lai ho una domanda importante Una domanda importante Ma lo possiamo usare nella torre o evitiamo? Allora vediamo Vediamo Stiamo attenti Ma tolto mezza vita sappiatelo Perché è molto forte È veramente forte Però secondo me Ma è troppo buio Secondo me conviene iniziare a obbedire al drago Ioioioioi Torce 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 Mettete le torce Ci ho messo io Ci ho messo io Ma che torce Allora davanti a me ci stanno delle particelle di neve Ma lì ci sono dei mostri Quindi adesso con attenzione Sembrano dei golem di ghiaccio Allora fammi provare un po' Ok Funziona Vai dagli fuoco grandissimo Lion Che c'è Anna che c'è? Sono forti Ti ha lanciato per aria Ma non vedi? Sono fortini Sono fortini Allora come la volta scorso Sono molto forti Sono resistenti La torre pure è più grande di quella dell'altra volta Quindi sembrerebbe che non dovrebbero essere tantissimi Oltre questi ce ne sono altri due dentro Quindi tranquilli Li ammazziamo Poi riusciamo a capire bene o male A che cosa serve questo piano Ci sono di nuovo delle statue dorate Voi non sapete neanche questo Ma io la scorsa volta ho utilizzato Le statue che noi abbiamo preso Per creare una specie di Come le utilizzate? Una sorta di sala trofei Per il momento non so che cosa fanno Però me le sono messe da parte Sono contenti Ah Queste armature state protetti Vi fanno tanto danno Siamo tutti protetti Tranquillo Sono perfette Anche la tua Stefano Perché mi sembra un po' Cioè No 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 è potentissima Sicuro Perché sembra una roba da taglialegna Cioè non è da No no finiti Finiti è potentissima E mi ha anche dato la spalla abbinata comunque Vabbè vabbè l'importante è che tu ti piaci Perché secondo me tu sei un taglialegna Non sei un avventuriero Però dai Sei sicuro Cioè capisci no? Guarda ti faccio vedere Guarda c'è un mostro Ah ah Sì Vedi Che c'è lì Tutte A ogni piano Probabilmente C'è una Mi raccomando Venite con me invece Perché ci sono delle altre cose Vediamo che cosa riusciamo a trovare Lei lo sento Di ragni da sopra Eh li sento anche io infatti Ma senti Devono essere anche tanti Infatti Aspettate che ho preso un paio di cose Ho preso del pane all'aglio E una bistecca di pesce spada Probabilmente Io ho la statua raga Questa specie di ring Che c'era al centro Si sta praticamente squagliando completamente Grazie Stefano Ha fatto tutto quanto di ghiaccio Lo so Andiamo avanti Tutta la torre Sembra essere fatta Strati Ogni strato Di un materiale Attenti ai ragni Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Mamma mia Occhio che ce ne sono altri Ma sono orrendi Ce ne sono altri qua sopra Attenzione Illuminati No 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 Un sacco di vita Attento Usate il potere del drago Se ne avete bisogno Che questo dovrebbe essere buono E sembrano Oddio questi sono tanti E sono anche un poco più forti Sono troppo forti Sono troppo forti Aspetta che ci sono anche Degli altri schifezze C'è tipo una specie di silverfish Con gli occhi rossi Qua dietro E altri Che schifo Qua è pieno Ma perché Dobbiamo capire Secondo me Perché ci succede Di trovare queste torri Perché non l'abbiamo ancora capito Ma all'improvviso Compagliono Tu Anna hai un'idea Perché di solito Sei perspicace Allora secondo me Secondo me Queste torri si spostano Perché sono comandate Da un drago Tecnicamente sono fluttuanti Quindi ha senso Ed è sicuramente vero Che si spostano Perché prima non c'era qui C'era quell'altra di diamante A fianco ma Se ci stai facendo caso Qua vicino C'è il nido del drago gigante Quindi non è che sono attirate Può essere che sia lui Proprio a manovrare queste torri Come se fossero delle isole Eh sì Delle piccole isole Per quale motivo Per darci una sfida Forse per metterci alla prova Per testarci O forse addirittura Per metterci contro gli altri draghi Ricordatevi che i draghi Sembrano essere estremamente territoriali E si mettono uno contro l'altro Abbiamo già visto Un drago uccidere un altro Specialmente quello gigante Quindi Esattamente Quindi perché dovrebbe attirarli Se poi è costretto ad ucciderli Per farceli uccidere a noi Però Se ne vuole far uccidere a noi Ce n'era un altro Questa è un'armatura Sembra bellina pure Vediamo un po' Mercurial Dice che Tutto il set completo Ti dà Ah Cosa ti dà Cosa ti dà Resistenza Resistenza è tipo Il potenziamento migliore Che puoi trovare Perché ti permette di Assorbire tutti i danni È molto buona questa qui La mia in teoria Sarebbe pure buona Perché è tipo Antifuoco Quindi contro certi draghi È buona Però questa Mmm È una città difficile Non lo so sai Resistenza è buono Però Antifuoco Antifuoco E più di draghi Però mi dice anche che La resistenza me la dà soltanto Quando mi esplode qualcosa vicino Tecnicamente di solito Non mi esplode niente vicino Non è molto utile effettivamente Abbiamo contro Più il fuoco Che le esplosioni Continuiamo ad andare Verso sopra Che mi sembra che qui Altro non ne abbiamo C'è una tua statua qui eh Mario ricorda Le statue Non te lo fa ripetere Tutte le volte Perché altrimenti La mia ira da drago Si No 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 Non ti preoccupare Che le prendi Lion Cos'è Che cavolo è Attenzione Lion cos'è Non lo so Era rimasto un ragnetto selvatico Lì nell'angolo No 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 Non l'hai sentito Eh si che l'ho sentito L'ho sentito Un verso bruttissimo Sono ululati raga Occhio Ok Fatemi Spizzare No 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 Questi mi fanno cagare addosso Scendiamo Cosa facciamo Non possiamo Non possiamo Non possiamo Si muore qui Lo spell è fortissimo Sparaflashateli con quello Sparaflashateli con lo spell Io uccido l'ultimo Che è rimasto qua sopra Dobbiamo pure illuminare acqua Attenzione voi Aspetta Mario Ok Vai 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 Perfetto Bravo Stefano Ti sei rifugiato lì State bene Sì sì Erano pochi ma erano Questi qua erano forti Mi sono cagato addosso io Che paura raga Sì ululavano Proprio letteralmente Ululavano Erano brutti pure Alti Lupi mannari Questi erano veramente Lupi mannari Se ce ne stanno altri E mi sa Mi sa di sì eh Guarda laggiù Guarda laggiù Aspetta aspetta Ci penso Penso io Ci penso io Non mettetevi davanti eh Stai attento Sto creando una combo Praticamente ho trovato Una combo tra le abilità Che noi possediamo Se combiniamo La magia del drago Insieme alla spada Viene fuori Ma qua ci moriamo ragazzi Ma non ce ne sono tantissimi Scappate voi Insistete ma scappate anche Insistete scappate anche Ok Ok ci siamo Non ce ne sono ancora Non è possibile Ma dove dove Non è possibile Mamma che male Non è possibile Io non vedo neanche niente Qualcuno mi deve mettere una torcina vicino Per favore Ci penso io Ci penso io Eccola Ok Stiamo tutti bene Mario Si Stefano Tutti bene Sembra che sono finiti Allora aspetta Prendiamo un attimo un fiato Cerchiamo di raccapezzarci un secondo Perché dobbiamo capire quello che è successo Allora Prima di tutto Mi sono cagato addosso Perché sembravano tanti E per un attimo ho avuto paura di morire Secondo E uscivano di continuo Era un branco intero Un branco di lupi mannari Prendi Mario la statua E io voglio capire qualcosa però Perché tutti i piani Sembrano avere un tema Tipo quasi di un bioma Perché questo qui per esempio È color ocra E infatti c'è della sabbia Una piramide di sabbia lì nell'angolo È desertico Desertico Quello sotto era verde E infatti c'erano i rovi Ci sono le piante Era più una foresta Esatto È una caverna della foresta Cosa vuol dire questa cosa? Io ho pensato che Tecnicamente Allora la scorsa volta Ne abbiamo trovato una torre di diamante E il drago che c'era sopra Era di diamante pure Era di diamante esattamente Potrebbe magari essere Che i draghi Hanno un dominio Cioè un drago Ha il dominio del fuoco Un drago Esatto tipo E dominano però Quell'elemento Ma qui scusami In questo caso Io per quanto ricordo Comunque ci sono Draghi di fuoco E draghi di ghiaccio Probabilmente No c'è ma La volta scorsa Abbiamo visto uno di diamante Cosa stai dicendo? E infatti quella già era Una anomalia infatti Questo qui probabilmente Ha il dominio dei biomi Perché tutti i piani Sono di un bioma differente Lo ipotizzo Perché per esempio Ecco qua sopra C'è del No questo è sangue raga Questo è proprio sangue Occhio Sì è sangue Guarda qua per terra Mi sa che qua c'è il rischio Che ci sia qualche Mostro un po' più forte Perché vedo tutto Ma che razza di bioma è? Facciamo attenzione Anche perché non vedo niente Provo Oh mamma mia Orca miseria Ma che paura Che paura Mamma mia Occhio Tranquilli tranquilli Ditemi se avete dei problemi Che vi vengo ad aiutare io Io sto a scappare in giro Al momento Urca miseria Si erano forti Ma sono troppo forti Oh Lei non mi serve una mano No no guardati Ti stai Io mi sto rigenerando È vero Mi sto rigenerando anch'io Ma così a caso Ma che vuol dire? Mi sa che qualcuno ci ha aiutato Credo Forse il piano C'ha qualche potenziamento Ma sticosi erano brutti Ma che Poi sono usciti da sottoterra Sono saltati dal terreno Ma in un modo bruttissimo Ma hai visto una cosa simile Scusa ma Aspetta Stefano ma scusa Ma tu hai L'unica abilità che hai È andare sugli alberi E nasconderti Perché Vabbè fai bene Ok non ti voglio criticare Ultima tecnica Occhio che potrebbero essercene degli altri Controlliamo prima di tutto Che non spuntino Perché è inserito Ecco li stanno qua davanti Io non ci sono accetto Aspetta 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 me ne occupo io Spostati allontanati Nasconditi Eh ce ne sono molti altri Sono tre Mario Ne occupatene però Eh me ne occupo Me ne occupo Ma porca miseria Sono tanti Poi sta spada che io Ti sto aiutando Grazie occhio a non frecciarmi Stefano Perché quella roba che hai No ti ho mancato Ah Nel senso non ti ho preso Disgraziato infame Ma io non lo so Togliamogli quell'arco Prima che fa un danno Allora va bene così Abbiamo ucciso tutto Credo che siamo finiti Perché non sento più i ruggiti Prendo eh Prendi la statua E questo piano Però dobbiamo andare un'occhiata Mario ma se hai ragione E questa è una torre di biomi Questo che razza di bioma è Mi sa che non ho ragione Perché non ha senso Un bioma di sangue Io non l'ho mai visto Non so se esiste Però Vedevo Aspetta aspetta Forse tipo È presente che Una volta abbiamo visto una foresta Sì ma io vedevo Che qua ci sono delle cose strane Cioè cos'è questo altare particolare Vedi che si possono anche mettere Degli oggetti qua dentro Toccato col pollo E c'è andato a finire il pollo dentro Magari ci fa il sangue No E questo invece Un tavolo d'alchimia Eh queste sono cose che Qua ci si fa qualcosa Raccolgo tutto? Eh mi sa di sì eh Specialmente questo lo prendo io Permettimelo Perché mi sembra molto prezioso Io prendo l'altare Anche l'altare lo prendo io Abbi pazienza Ma mi sembrano che vanno Uno a fianco all'altro Questi due cosi Sono Sono collegati probabilmente Eh mi sa che qua c'entra parecchio il sangue Perché questo è un altare di sangue E invece il tavolo è un tavolo d'alchimista Eh ma guarda anche le lampade Consolano sangue È vero Ma c'è sangue all'interno che scorre O lo vedo su io No 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 è vero C'è sangue dentro le lampade Dobbiamo capire Prendo una anche di queste eh magari Che schifo però Magari sono contenitori Eh è una Sì ha ragione Mario Sono dei contenitori oscuri Dark tank Che contengono sangue E contengono 16.000 Eh non so che unità di misura E litri Boh qualcosa No litri forse eccessivo Però di sangue Proprio di sangue Le prendiamo tutti a sto punto Io le prendo almeno tre Così ce l'abbiamo E se per caso fossero i contenitori Che ci servono Per provare ad utilizzare quell'altare Potresti aver ragione Allora fai una cosa Anna Questi contenitori Siccome non staccano uno con l'altro Me li porti tu Me li conservo io certo E me li porti al castello E invece continuiamo a salire Perché voglio vedere a sto punto Che cosa c'è sopra Occhi aperti Perché dopo sti mostri Sono pronto con le torce Sinceramente non so cos'altro Eccala là No non salite Non salite Allora questa qui è un boss Che noi abbiamo già affrontato Anna tu te lo ricordi No su minecraft estremo La baronessa Certo che me lo ricordo Quindi io non ve lo dico neanche Ma è forte È forte e parecchio Cosa fa spiegaci per piacere Fa magie Ma soprattutto fa parecchio danno Quindi occhi aperti Proviamo ad andare E vediamo che cosa succede Siamo attenti Non colpitevi a vicenda soprattutto Prima io la sparo con Il potere del drago E poi vediamo Venite Ok cominciamo proviamo Ok Occhio non mettetevi davanti Infame Guarda cosa fa Guarda cosa fa Occhio eh Guardala Se avete bisogno di scappare Magari La vedo male raga La vedo male 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 Però abbiamo di nuovo La rigenerazione Approfittiamone Approfittiamone Perché ha tipo uno scudo addosso Tu Anna ti ricordi Mi sa che dobbiamo battere in ritirata Qui e la vedo male Attenti Volate in ritirata Non me lo ricordo Volate in ritirata Aspetta forse adesso Ricordatevi che se noi voliamo Possiamo schivare meglio Però uscite Torniamo nel piano di sotto Perché questa mi sembra troppo forte Non ne abbiamo fatto nulla No Non ne abbiamo fatto danno Allora il drago ci ha aiutato Perché ci ha dato Se è stato lui Secondo me è stato lui Che ci ha dato sta rigenerazione Perché se queste sfide Ce le propone lui È possibile che lui stesso Ci voglia aiutare Per evitare che noi veniamo sconfitti È possibile Perché noi abbiamo accettato Di essere suoi alleati Se noi l'avessimo combattuto Immagino che sarebbe stato il contrario Altro che aiutarci Il drago ci avrà anche aiutato Ma questo è troppo forte Guarda quanto gli abbiamo fatto di danno Lo so infatti Non abbiamo fatto niente Niente gli abbiamo fatto Non so cosa fare Si mette alla prova E vuole che combattiamo allora Si ma è troppo forte Non ce la facciamo Ci deve essere Magari c'è un modo per Tu hai provato a tirargli le frecce Magari Niente È immune Le respinge Potremmo provare a saltare il suo piano E andare direttamente oltre Magari è un Volando dici Secondo te ce lo permette Secondo me si Perché se noi voliamo veloce veloce Passiamo direttamente oltre Fermi eh Non seguitemi Ma c'è una cassa Io ho visto che c'è una cassa in questo piano Non gli facciamo niente Neanche Guarda Anche se io la brucio tipo Non gli faccio niente Guarda niente Niente proprio C'è tipo uno scudo Ho consumato anche il potere del drago Questo è forte parecchio Raga Ignoriamola È l'unica cosa che mi viene in mente Che possiamo fare Non ce la facciamo Si fa tipo uno scudo Ma non mi sembra una buona idea Salta un piano Ma qui da me Mi stavo pensando Via 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 Perché ci moriamo raga Ve lo dico Ci ha salvato di nuovo il drago Dov'è il Dov'è il coso per salire Ma da qui c'è l'ascensore Allora io È vero Ho trovato la cassa Correte salite Aspetta aspetta Sto prendendo tutto quello che c'è nella cassa Velocemente Veloce La prova a distrarre Sì per favore Ho preso anche Lo faccio io Lo faccio io anche Questo aglio Chi se ne frega Ok ci sto ci sto Dov'è il pot Dov'è per salire Salite 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 Mamma mia Non lo vedo Stai non lo vedo Non lo vedo Come non lo vedi Non lo vedo È l'ascensore Questa per la corba rosa Ok lo vedo Lo vedo Lo vedo Salite 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 Ok Mamma mia Allora io non so voi Ma si è fatta più danno da sola Sparando quelle robe che sparava Piuttosto di quanto gliene abbiamo fatto noi Hai perfettamente ragione Anche perché con le nostre spade Non gli abbiamo fatto niente Il problema adesso È che l'infame rimane qua sotto Io spero che se ne vada Magari despauna Facciamo una cosa Mettiamoci tutti quanti in un angolo Così facciamo in modo Perché ho paura Che anche Che potesse sfondare il soffitto E venire da noi Mario vini qua Mi faccia pure le esplosioni È andata È despaunata Tipo forse Mi sembra che sia Ascettate non sento più esplosioni No ma è sparito anche il nome No no Oddio un'esplosione l'ho sentita Aspetta fermi Non andiamo perché C'è uno solo al massimo Non vale la pena rischiare di morirci Per andarla a controllare eh Mi pare che Non si sente più Sembra calmo E il nome non c'è più Quindi forse effettivamente Allontanandoci Cambiando piano è despaunata Proseguendo è despaunata Sì mi scoccia Perché magari poteva droppare Delle armi molto forti La statua pure Io non mi ricordo come l'abbiamo sconfitta Non abbiamo preso la statua Non me lo ricordo neanche io Come abbiamo fatto Ma sicuramente non avevamo una spadina così debole Per la statua te lo ricordi Tienilo a mente E dopo la andiamo a prendere Ripasso al massimo Per il momento cerchiamo di concludere la situazione Anche perché L'altra volta c'era il drago qui pronto a proteggere il tesoro Questa volta invece non c'è nessuno Il che è strano Ma ho paura Che magari se noi apriamo adesso la cassa Potrebbe lui arrabbiarsi Perché prevede Cioè vede che noi gli abbiamo rubato il tesoro Probabilmente non c'è adesso Perché noi non abbiamo sconfitto il piano di sotto Potrebbe essere Però occhio perché Secondo me lo facciamo arrabbiare Allora io devo Allora facciamo così Tu apri la cassa Noi controlliamo Se arriva ti chiamiamo Allora io mi libero un pochino l'inventario Perché voglio avere la possibilità Di raccogliere qualsiasi cosa ci sia Velocissimo Così non gli do la possibilità Neanche di distruggere la cassa Perché l'ultima volta era andata così Abbiamo dovuto fare Un sacco di casino per risistemarla E vedo subito che cosa succede Allora Apriamo Prendo una spada C'è roba buona eh C'è anche un pacchetto di carte nostre Queste le ho inserite io nel gioco Davvero? Sì ma come si Prendi tutto Tu prendi tutto Un'armatura Ma questo nome ci sta Nell'inventario Come faccio? La butto per terra Perché prendo io qualcosa La butto per terra E voi la prendete Ci pensi io ci pensi io La sto prendendo È tutta rossa È tutta rossa Anche questi sono gli stivali Stefano Gli stivali Dove sono? Eh sono per terra Tutto per terra Lei qui 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 Prendi Ho preso tutto Ho preso Gli stivali Prendi gli stivali Perché li assorbo Mi sa che c'ho qualche Torno da te Torno da te C'è il drago C'è il drago C'è il drago a fianco a noi C'è il drago a fianco a noi Ma c'è la con noi Questo mi sa di sì Occhio Eh sì che c'è la con noi Gli abbiamo rubato le coste Sì però occhio Questo qui è tipo Era una pippa L'abbiamo massacrato L'abbiamo questo qua Ma che c'è? L'hai scomposto? Non può essere solo lui raga Non può essere solo lui No infatti No occhio Però se c'è un altro Io lo voglio affrontare lo stesso Non me ne vado finché non succede Guarda Ve l'ho detto che Abbiamo fatto bene A togliere A aspettare È più grande Lo sapevo io Vai 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 Che questo qua è forte Occhio Mi ha buttato di sotto Tranquilli Che posso volare Mangiate voi Mangiate Assimilare L'ho ucciso L'ho ucciso Anna È morto Anna sei caduta di sotto Puoi volare Tranquillo sto planando Tranquillo Ok Che figata però eh Dovrebbero essere Attenzione Che cosa è qualcosa Ha lasciato qualcosa al drago Uno di quei cose invisibili Ci sono a volte dei mostri invisibili Facciamo una cosa Mangiate E ritorniamo Tanto abbiamo preso tutto da qua dentro Ritorniamo al volo Verso il castello D'accordo ci si vede Ti seguiamo Mi vedete Anna tu ci sei Mi vedi dove volo Certo sono dietro di te Tranquillo Io vedo il nido del drago gigante Di Diablos Dobbiamo ricordarci Di chiamarlo con il suo nome Perché se lui si chiama Diablos È giusto chiamarlo Diablos Basta dire il drago gigante Non si vorrei mai che si offendesse pure Diablos Diablos Ho mai cattivo Sì molto Ed è cattivo anche lui Voi non sapete Mario e Stefano Ma io vi devo Aggiornare Mamma mia mi stavo distraendo Tenzo Tenzo Quando hai due cosciotti di fame Non voli più Inizi a planare e cadere Quindi occhi Occhi molto aperti Non voglio che nessuno muoia In quel modo stupido Dicevo però La volta scorsa Quando lui ci ha Offerto un incarico L'incarico è stato molto particolare Praticamente abbiamo dovuto Dare da mangiare a un maiale Una mela oscura Che lo ha ucciso E in cambio ci ha dato un libro Dello scurito Non c'ha senso Cioè a chi serviva Scusa Cos'è la mela? La mela si chiamava Darkened apple È una mela che ci ha fatto creare Proprio lui Io credo che lui Voglia che noi facciamo Cose malvagie Lui è cattivo E ci fa fare cose cattive Per vedere se anche noi Siamo cattivi Anche perché ti ricordi Che quando abbiamo dato La mela al maiale Si è aperta tipo Quell'anomalia strana Sì esatto Perché abbiamo creato Abbiamo fatto una cosa malvagia E si è aperta una specie Di portale malvagio Che ha dato poi Questo libro Malvagio E a proposito L'ho messa qui dentro L'ho messa qui dentro Non l'hai vista Ah bravo Ce l'hai vista È vero E farcela vedere È malvagia Scusate È malvagia questa spada Una faccia cattiva Mi sta bene in mano Vediamo se è più forte Dice però che è posseduta Questa spada Però sembra buona Che credo Vabbè Per il momento Me la tengo io Questa qui E poi eventualmente Non usiamola direi Controllando Lasciamola un po' stare Hai una spada grande O soltanto Io ho questa qui Eh anche voi Vero Sono una spadina piccoletta Vabbè Vicine Diciamo che ci pensiamo dopo Ho trovato anche un'altra cosa E andiamo le troveremo per tutti Malayon Piuttosto perché non rientriamo Il drago che vuole Giusto Giusto Non ti preoccupare Devo andare a vedere Il mio cucciolo di drago Devo vedere se sta bene Appunto io ho paura Che Diablos fosse qui per lui No 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 Secondo me lui non sa neanche Che noi ce l'abbiamo Perché non è mai Venuto vicino al castello Così però Effettivamente Dov'è Ma dov'è Leon Dov'è finito Dov'è il mio cucciolo di drago